Metro Exodus debutta sulle piattaforme di nuova generazione, con un'edizione che migliora ogni aspetto del comparto tecnico. Ci siamo quindi immersi nuovamente nelle inquietanti atmosfere dello scenario post-apocalittico creato da Dmitry Glukowski, calandoci nei panni del coraggioso Ranger Arteum per un'ultima appassionante avventura fuori dall'oscurità, inseguendo la speranza a bordo di un treno. Ecco la nostra recensione della versione PS5. Tra lunghi anni di triste sopravvivenza e un singolo momento di speranza, io scelgo la speranza. Disponibile con un upgrade gratuito per i possessori della versione originale per PS4 e Xbox One, l'edizione Next Gen di Metro Exodus introduce fondamentalmente quattro novità tecniche. La risoluzione che raggiunge i 4K dinamici, il framerate che passa a 60 fotogrammi al secondo, l'attivazione del ray tracing e i caricamenti più veloci grazie all'SSD. Tutti questi aspetti incidono in maniera sostanziale sull'esperienza. Non solo l'impatto visivo è migliore per livello di dettaglio, riflessi ed effettistica in generale, ma il gameplay trae giovamento dai 60 fps, diventando più preciso e piacevole. Per quanto riguarda i tempi di caricamento, li abbiamo trovati sì più rapidi, ma tutt'altro che istantanei. Se ricordate la nostra recensione di Metro Exodus saprete che l'ultimo episodio della serie prende le distanze dai primi due capitoli in maniera piuttosto netta, sperimentando un'ambientazione per lo più aperta, ma non esattamente open world. La natura più ariosa e l'introduzione del crafting vanno ad aggiungere nuove sfaccettature al gameplay tradizionale, che in questo modo si avvicina parecchio al filone degli RPG pur senza spingersi a indicare punti vita e danni numerici. Questi aspetti si traducono in un'impostazione quasi da survival, dove pianificare bene le azioni quando ci si trova di fronte a un gruppo numeroso di nemici. Stando agli approfondimenti di Digital Foundry il gioco si comporta meglio sulla console Sony in termini di performance rispetto alla versione Xbox Serie X. Su PS5 il framerate si mantiene più stabile sui 60 fotogrammi al secondo, ma paga daccio sul fronte della risoluzione. Lo scaler dinamico entra infatti in azione in maniera prepotente, lavorando in un range che va dai 1512p ai 1296p nelle situazioni più complesse. L'immagine è così generalmente più morbida, ma non è un problema durante le sequenze che si svolgono all'interno di ambientazioni chiuse. Qui il mix di tonalità di colore, stile grafico e dolcezza crea dei quadretti estremamente piacevoli. Diverso è il discorso all'aperto, in particolare rispetto alla vegetazione, dove alcuni artefatti sono più visibili. Parliamo tuttavia di sacrifici più che accettabili laddove la contropartita è rappresentata dall'implementazione del ray tracing. Anche in questo caso grande protagonista del comparto visivo. L'incidenza di tale tecnologia sulla resa delle luci è evidente, e sebbene la qualità finale non sia la stessa che abbiamo apprezzato su PC, il miglioramento rispetto all'edizione originale appare notevolissimo. Certo, sarebbe stato interessante poter contare su diverse modalità grafiche, ma il compromesso individuato dagli sviluppatori è probabilmente quello che tutti comunque avremmo scelto di utilizzare. Su PlayStation 5, troviamo inoltre un buon supporto alle caratteristiche del controller DualSense. In particolare, i trigger adattivi esprimono una resistenza variabile a seconda dell'azione che vediamo sullo schermo, offrono un feedback diverso in base alle armi e, in generale, svolgono un ottimo lavoro nell'aumentare il senso di coinvolgimento nell'azione. Metro Exodus arriva sulle piattaforme Next Gen con una versione sostanzialmente migliorata sul piano tecnico, grazie alla risoluzione più alta, a un framerate raddoppiato e all'implementazione del repracing. Il compromesso finale è più che accettabile, e l'esperienza ne guadagna parecchio, giustificando assolutamente l'acquisto per i nuovi utenti e, perché no, anche per chi ha già completato l'ultima avventura di Artyom e vuole farsi una nuova run. Voi cosa ne pensate? Vi farete un secondo giro sul treno di Metro Exodus? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto. E se avete trovato questo video interessante lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale, cliccando sulla campanellina, per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, grazie per aver guardato fino alla fine.